Amore, dove sei? Oh, cazzo. Tu lo sai in questo momento in Italia quante persone si stanno tradendo? Io lo ammazzo. Guarda lì. Alle 11 di mattina. Alle 11 di mattina. Meglio una bella bugia che una brutta verità. Noi vendiamo alibi. Oddio mio, cos'è successo? Si è sacrificato per salvare il cane di un bambino cieco. Amore mio, perdonami. Io sono Cleo. Sono una giurista. Ne odio profondamente i bugiardi di qualsiasi tipo. Tu cosa fai? Ho un'agenzia di viaggi. Miau. Mi ero già organizzato un weekend con l'amante, solo che è l'anniversario del mio matrimonio. Papà, è un paziente di conoscerti. Fred, papà, papà, Fred. Ma non ti vergogni di mentire così a mia figlia. Tu stai tradendo la madre della mia ragazza. Non ti sembra che papà si stia comportando in modo un po' strano? È la fine. C'è una cosina che non vi ho detto. Sono un arcolettico. Mi sono scordato le medicine. Che succede se non le prendi? Vi ho portato un regalino. Ho scolpito te, Irene. Ci sono stato sopra 302 ore. Molte di più che Alberto negli ultimi cinque anni. è dal primo momento che mi chiedo perché lui? Cioè, non sei bello, non sei intelligente, non è un galletto. Oddio, non è che... Sveglia? Sono sveglio. Prevenire è meglio che curare. Regina di cuori! Ci conosciamo? No, ma ti stimo tantissimo! 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 Tantissimo!